Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video dove andrò a rivelarvi finalmente il grandissimo progetto che ho lavorato per le ultime settimane sostanzialmente dopo averlo ideato e averci lavorato sopra e aver capito esattamente di che cosa voi seller avete bisogno ho deciso di creare un servizio, ok, che ovviamente è a pagamento per il valore che c'è dentro adesso ve lo andrò a presentare, che vi permetterà di ricevere tantissime informazioni praticamente informazioni che si trovano normalmente nei corsi, ok, le troverete tutte in un pacchetto unico ok, adesso ve la vado a presentare, ho appunto deciso di ideare una community ok ragazzi, una community ovviamente a pagamento, che adesso ve la presento ed eccola qua boom, l'IF ragazzi, vi presento l'IF, l'Amazon Seller Community, che cos'è? come ho scritto in descrizione, è dedicata a tutti gli Amazon Seller, ok, quindi per chi già vende all'interno di Amazon ok, non chi ancora deve iniziare, non ha idea di come funziona questo business ma per chi già vende all'interno di Amazon, ok, avrà accesso a questa community ok, i primi saranno i più avvantaggiati perché, ok, saranno i soli, ok, ad esserci ma avranno praticamente solamente le mie risposte, un contatto one to one con me ok, i primi venditori entreranno, scusatemi, sono emozionato a parlare di questa cosa successivamente, via via che entreranno altri seller, appunto i principi fondamentali sono la cooperazione il rispetto reciproco, ok, la voglia di crescere insieme perciò la community si baserà e si basa sul fatto di scambiarci a vicenda le informazioni anche perché io vi risponderò, sarò sempre in prima linea a rispondere e a darvi tutte le informazioni che normalmente mi chiedete in chat privata, su Instagram, su Whatsapp, su Facebook vi basterà entrare in questa community, per un costo veramente ridicolo al mese avrete tutte le informazioni per voi, che vi darò io in chat, via chat su questo gruppo Telegram come vedete ma successivamente quello che succederà è che ogni, ho in mente di fare ogni settimana una live ok, dove condividerò lo schermo, andremo a vedere insieme i dubbi più grandi che avete ok, e andiamo a risolverli insieme direttamente, praticamente andando a togliere tantissimi problemi che normalmente riscontrate, che magari sono saltuari, ma che magari avete in comune ok, le informazioni che andrò a condividere in questo gruppo sono informazioni che normalmente si trovano all'interno dei corsi, ok, vi dico solamente questo quindi ho deciso di dare tutto questo valore insieme ad un pacchetto fisso, mensile ok, in modo tale che possiate avere tutte le informazioni appunto questo, questa community questa l'ho data proprio per questo motivo qua in modo tale non dover spendere tantissimi soldi per dei corsi magari di cui magari avete bisogno solamente di alcune informazioni, oppure per tutte quelle informazioni random che dovete, che volete ricevere magari avete risposto dopo tanto tempo, in questa community avrete a disposizione tutte queste informazioni in pochissimo tempo, ma non solo, come dicevo, avrete anche l'accesso inizialmente anche a delle live in esclusiva con me direttamente, dove si andrà ad esaminare, appunto esaminare ogni problema che riscontrate e quindi andarlo a risolvere insieme, ok, in diretta live, ok, una volta a settimana questa sarebbe l'idea, ma tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati all'interno di questo gruppo e non solo, ok, ovviamente i contenuti su YouTube continueranno a comparire, continuerà a esserci tutto ma successivamente quello che succederà è che avrete anche accesso a tantissimi vantaggi a far parte di questa community, come ad esempio alcun diverso materiale che nel tempo, non ancora adesso verrà rilasciato, chi sarà in questa community avrà anche la priorità, ok, ovviamente perciò ragazzi davvero vi consiglio di iscrivervi e voi vi chiederete, sì, ma quanto mi costa tutto questo? in realtà la domanda è quanto mi costa non farlo, ok, quanto mi costa non entrare in questa community? perché adesso i primi, adesso un membro ci sono solamente io, ragazzi, la sto lanciando proprio in questo momento ma via via che entreranno persone, più aumenterà la mole di informazioni, la mole di valore, ok? già c'è il mio di valore, dopo pensate quando ci saranno altri venditori, altri seller e finalmente ho deciso di dare tutto questo, ok, tantissimo valore, tutto per tutti voi che me lo chiedete per tutti voi che mi state seguendo, invece di creare un corso ho deciso di creare una community che diventerà un vero e proprio canale, ok? una specie di media sostanzialmente dove si va a dare tutte le informazioni del mondo di Amazon per stare in stretto contatto, in stretta comunicazione ed è veramente, penso, un'innovazione in questo campo qua non ho visto community in giro di questo tipo qua ho visto solamente gruppi Facebook gratuiti dove però le persone ricevono risposte non corrette o a distanza di tempo dove insieme c'è un miscuito di persone che vogliono perdere tempo ed altre lo fanno seriamente ho visto tantissimi corsi a pagamento a cifre allucinanti ho deciso di abbattere tutto questo in una community che veramente vi semplificherà la vita se siete degli Amazon seller ovviamente a parer mio questo è l'inizio di un qualcosa di veramente più grande perciò l'ho chiamata leaf, ok? perché leaf ragazzi? leaf sarete delle leaf all'interno di questa community, delle foglie una foglia che è appunto l'elemento principale che permette all'albero, ok? di sopravvivere di avviare il processo di fotosintesi e quindi di continuare a crescere, a crescere appunto è proprio questo il senso, ok ragazzi? sono emozionato a dirvi questo aggiornamento qua quanto vi costa? andiamo proprio alla domanda, ok? tutto questo lo avrete per 49,99€ al mese ragazzi una cifra veramente ridicola rispetto ai corsi per trovarla fuori e questo proprio perché per me è importante le informazioni siano libere che tantissimo valore venga, ok? esposto, venga tirato fuori invece di comprare un corso da 2000€ magari avrete tutto questo ad un prezzo bassissimo, direttamente risposte live videochiamate, sostanzialmente, ad un prezzo veramente ridicolo solamente 50€ al mese ragazzi, che veramente vi costa una cena al mese in sostanza vi permetterà di avere accesso a questa community con cui potete interagire con altri venditori, altri seller inizialmente con me solamente e questo ovviamente è un vantaggio per i primi ma nel tempo ci saranno altri seller che vi risponderanno noi ci risponderemo a vicenda e cresceremo, cresceremo insieme proprio come un albero ovviamente dovete inserire le vostre informazioni di contatto ovviamente vi arriverà anche una fattura, eccetera o una parte la stiamo donando, ok? per ridurre la scedula nell'atmosfera, non 0,5% di ogni acquisto ok? ho deciso di fare questa collaborazione con Stripe e non solo questo, vi dico che ovviamente l'abbonamento partirà poi in automatico se mai vorreste disiscrivervi, nel caso mi iscrivete direttamente e eliminerò il vostro abbonamento, ok? senza problemi bene, detto questo ragazzi, non ci sono cose da aggiungere penso veramente sia un qualcosa di incredibile di cui vi consiglio veramente di entrare a far parte perché via via che entra la gente si dovrà sempre di più migliorare la struttura per fare in modo che tutti ricevano le giuste informazioni ok ragazzi, comunque è già tutto pronto, è già tutto preparato vi sto solamente aspettando, ok? un prezzo veramente ridicolo, ripeto quanto vi costerebbe non entrarci? e boh, questo lo sapete voi ragazzi quanti problemi avete durante appunto la vostra gestione dell'Amazon Seller che vi fa perdere tantissimo tempo soldi, eccetera invece di scrivermi in chat che poi vi posso rispondere o non rispondere, eccetera entrate qua dentro e avete tutte le informazioni in pochissimo tempo ripeto, ci saranno anche live con informazioni che normalmente si trovano nei corsi, ok? perciò, questo è potete tranquillamente entrare un mese, il mese dopo eliminarvi se non vi piace la community anche se comunque dubito ragazzi e io non lo farei forse in voi anche perché tutte le informazioni non potrete vederle ok? non è che entrate adesso, poi vi iscrivete rientrate tra 5 mesi e cercate le informazioni chi entra dopo non può vedere le informazioni precedenti ok ragazzi? bene, detto questo questa è la community ok? vi invito tutti ad entrare in questa community l'IF, nuova community in Italia per quanto riguarda gli Amazon Sell contattissime informazioni dentro informazioni che si trovano nei corsi informazioni che si trovano veramente ad altissimo prezzo e soprattutto risoluzioni e avrete l'affiancamento sostanzialmente in live in questo gruppo direttamente con me come sempre continuerò a fare le consulenze ok? per chi me le chiede, consulenze ma qui, di là, ma ci sarai ancora? assolutamente sì per quello potete tranquillamente contattare si fanno comunque delle consulenze one to one ma questa community permetterà di abbattere tantissimo tutte quelle problematiche relative ad Amazon Seller quella che avrei voluto sempre trovare io finalmente è davanti ai vostri occhi perciò se questo video ti è piaciuto lascia un like se ti piace la community mi raccomando e vuoi partecipare se è un Amazon Seller mi raccomando iscriviti qua sotto al link che lascerò qua sotto il link in descrizione lo metterò anche in bio all'interno di Instagram iniziate, mi raccomando, ad iscrivervi e ripeto solamente a chi è già seller non chi ancora deve iniziare ok? mi raccomando non è per tutti questa community infatti mi auguro che rispettiate questa regola qua proprio per non intasare la chat comunque estremo valore tutto per voi 49,99 euro al mese vi sto aspettando quanto vi costerebbe appunto non entrarci ci vediamo all'interno della community leaf ciao a tutti ragazzi se ancora non mi seguite su YouTube iniziate a scrivermi e anche magari iniziate a seguirmi su Instagram dove ogni giorno pubblico aggiornamenti relativi al mondo di Amazon ciao a tutti ragazzi vi aspetto nella community grazie a tutti